Buongiorno a tutti, oggi inizia il primo giorno del carnaval di Barranquilla, è una espilata che si chiama la batalla di flore. Sono le 12 del dia, le 12 del giorno c'è un sole che non smette mai di brillare, un caldo, vediamo come va, speriamo tutto bene. Un bacio grosso a tutti, che buon divertimento per noi. Un bacio grosso a tutti, che buon divertimento per noi. C'è un caldo pazzesco, dove la gente sta esvenendo ogni 30 minuti del caldo. Dopo tre ore di essere qua a aspettare, finalmente inizia la espilata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.